Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove La Sportiva Jackal 2 Boa Nuova scarpa da performance di casa La Sportiva che... Vabbè dai, veniamo insieme ai pregi e difetti all'interno della sessione completa Iniziamo come al solito guardando le caratteristiche di questa Jackal 2 Boa Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola di casa La Sportiva, ovvero la Frixion White che la sportiva dice essere quella con il maggior grip di tutta la gamma Per quanto riguarda l'intersuola, troviamo un'intersuola a doppia densità con all'interno degli inserti in tecnologia infinito della sportiva Continuando per quanto riguarda la tomaia, troviamo una tomaia in mesh con rinforzi in TPU Naturalmente avete già visto che come chiusura abbiamo un doppio Boa e poi ha anche una ghetta un pochino alta per evitare l'ingresso di detriti Peso? Nella taglia 42 pesano solo 300 grammi Ma adesso vediamo insieme pregi e difetti Inizio come al solito parlandovi della suola di queste La Sportiva Jackal 2 Boa Come dicevo qua troviamo una Frixion White ovvero la suola più performante di casa La Sportiva che sarò sincero non mi è piaciuta Non mi è piaciuta su tutta la parte di roccia Per quanto riguarda l'asciutto, su terreni semplici, fondo valle, single track Nessun problema, anche sul fango si difende abbastanza bene Ma il problema di questa suola che io ho rilevato è la roccia Sul bagnato ho fatto di quelli scivoloni che non vi sto a dire Il problema è che l'ho trovata scivolosa anche su roccia asciutta Anche su roccia asciutta, correndo per una mulattiera Anche in salita l'ho trovata scivolosa Nel senso che mentre andavo a spingere per fare il passo successivo Il piede mi scivolava via e rischiavo quasi sempre di cadere in avanti Davvero per quanto riguarda la parte di roccia Sia di asciutto che di bagnato Questa suola non mi è piaciuta per nulla E poi vedremo che essendo una scarpa pensata per fare anche del tecnico Questo diventa un grande ma Continuiamo e parliamo dell'intersuola Qui troviamo un'intersuola a doppia densità Ovvero cosa vuol dire? Che troviamo una parte di intersuola in eva Ad alta densità per proteggerci dalle rocce su cui noi andremo a correre E poi troviamo un'altra parte con tecnologia infinito Che fa sì che questa scarpa sia molto ammortizzante Quando la calzerete per la prima volta vi sembrerà abbastanza secca Ma non vi preoccupate perché pian piano utilizzandola la scarpa tenderà ad ammorbidirsi E vi assicuro potete farci delle corse anche abbastanza lunghe Non super lunghe diciamo che con questa io comunque massimo ci farei 100 km Ma per quanto riguarda la reattività è comunque buona Secondo me questo l'intersuola è davvero un buon compromesso tra morbidezza e reattività Ma saliamo e continuiamo a parlare di queste giacche al 2 boa Parlando del puntale qui troviamo un puntale che sinceramente avrei preferito un pochino più rigidino Soprattutto perché essendo una scarpa pensata per il tecnico Diciamo che se prendiamo dentro qualche roccia il colpo lo sentiamo Mi piace poi tutta la parte in materiale plastico messa sulla parte anteriore Che va a proteggere la tomaia e fa sì che non si rompa in poco tempo E proprio parlando di tomaia questa è in mesh con tutta una parte messa nella parte interna della scarpa Di rinforzo in TPU Questo naturalmente anche poi per la tecnologia boa In sé comunque è una tomaia molto traspirante Io questa scarpa l'ho bagnata un po' di volte e si è asciugata e men che non si dica Quindi ha davvero un'ottima traspirabilità Per quanto riguarda invece il tallone questo è abbastanza rigido Tutta la parte inferiore è bella strutturata Che poi pian piano va a destrutturarsi fino ad arrivare alla parte superiore Dove c'è la ghetta che è molto morbido Ma naturalmente questo per non costringere troppo il piede In generale complice anche l'allacciatura Il fit di questa scarpa di cui poi ne parliamo dopo È una calzatura con cui io non ho mai avuto problemi di prenderci storte Anche andando su sentieri veramente sconnessi Da sicuro con questa scarpa storte non ne ho mai prese Ma arriviamo a parlare di allacciatura e linguetta Che sono le parti sicuramente più interessanti di queste Jackal 2 e Boa Per quanto riguarda la linguetta beh come vedete non esiste Praticamente abbiamo una ghetta un pochino alta Molto morbida ed estremamente traspirante Che ci evita l'ingresso di materiale all'interno della scarpa Questa lavora decisamente bene Io l'ho utilizzata, non si sentono punti di pressione Non dà fastidio quando corriamo Quindi una ghetta studiata molto bene Che ho trovato molto efficace E parlando appunto poi del Boa Qui ne troviamo due E inizio subito a dirvi che i due Boa Secondo me ci stanno Ho sempre criticato il Boa singolo Perché non chiudeva bene sulla parte dell'avampiede Ma in questo caso con il doppio Boa Possiamo avere una lacciatura personalizzata E fatta molto bene Io davvero l'ho apprezzato molto Anche se il mio piede tendeva un pochino a farmi male Nella parte dell'avampiede Con il Boa posto più vicino alla punta della scarpa Ma questo è più un problema mio personale Rispetto che un problema della scarpa In generale poi tutta la parte di linguetta Insieme a tutta l'allacciatura Fa sì che questa scarpa calzi veramente come un calzino Come si suol dire Questo ci aiuta davvero tanto nel momento in cui andiamo sul tecnico Quindi quando dobbiamo fare dei passaggi rapidi Quando vogliamo una scarpa precisa Tutta la parte di allacciatura e di calzata Veramente in questa scarpa mi è piaciuta molto Per quanto riguarda invece la soletta interna Qui troviamo una soletta Ortolite Ribrandizzata alla sportiva E che dire Io con le solette Ortolite mi sono sempre trovato bene Anche in questo caso confermo che non ho nessun problema È removibile ma io penso che non la cambierei Per che tipo di runner andrei a consigliare questa calzatura? Allora secondo me ci può stare un runner intermedio esperto Lascierei perdere un po' un runner principiante Perché comunque non è una scarpa con una gran struttura Non avendo una linguetta fissa eccetera Soprattutto poi magari uno che fa anche lunghe distanze E appunto perché distanze e perché terreni Partendo dal terreno secondo me questa scarpa è data per il terreno tecnico Ma io non la userei mai sul terreno tecnico Perché una suola con così poco grip A me personalmente non è piaciuta E non vi consiglierei di andare sul tecnico Per quanto riguarda invece la distanza Come vi dicevo Secondo me ci posso fare una tranquillamente anche una 100 km Non andrei tanto oltre Magari in quel caso meglio le giacche al 2 normali Che spero di provare Però secondo me fino a una 100 km la si fa tranquillamente Detto ciò arriviamo alle conclusioni Vi consiglio queste nuove giacche al 2 boa Dipende Dipende perché se le vediamo come sono state pensate Ovvero per correre anche sul tecnico La risposta è no Perché questa suola non mi dà quel grip che vorrei Non mi dà quella sicurezza che vorrei quando vado sul tecnico Per intenderci io mentre scendevo a correre su una mulattiera bagnata Sono stato obbligato a camminare Perché scivolavo talmente tanto che non mi fidavo più di questa scarpa Se invece la vogliamo utilizzare su del terreno semplice Quindi evitando la roccia Allora sì in quel caso può andar bene Ma in quel caso può andar bene un qualsiasi tipo di calzatura Che non abbia magari tutta questa ingegnerizzazione Prezzo viene venduta Prezzo di ufficiale la sportiva 200 euro Online si trova attorno ai 170-180 Diciamo che è in linea con la fascia di mercato Quindi il prezzo ci può stare Non è né troppo alto né troppo basso Detto ciò ragazzi Io nella speranza sia stato esaurante e esaustivo Anche per questa recensione Vi ringrazio per la guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao